Io il 25 novembre mi trovavo su un autobus, ad un certo punto è salita una persona che urlava al telefono contro quella che poi ho scoperto è la sua ex compagna e minacciava di fare del male sia a lei sia alla loro figlia. Quando mi sono resa conto che queste minacce diventavano sempre più pesanti ho pensato fosse il caso di registrare con il mio cellulare, ho fatto questa registrazione e come questa persona è scesa dall'autobus mi sono messa in contatto con le forze dell'ordine. Nei giorni seguenti siamo riusciti ad identificare quest'uomo perché aveva già precedenti penali quindi non è stato troppo difficile in realtà e è intervenuto anche il tribunale dei minori e alla fine è stato arrestato. Io mi sono sentita in dovere di fare questa cosa perché non potevo fare finta di niente, non mi sarei mai perdonata girarmi dall'altra parte e poi magari leggere qualche giorno dopo su un giornale qualche nuova notizia di cronaca nera. Non potevo mai perdonarmi, ho preferito assumermi il rischio di denunciare perché poi neanche la compagna ha voluto fare denuncia neanche dopo tutto questo, io la capisco ovviamente, però io non potevo non denunciare.